Video-lezione di storia, età napoleonica. Dai successi militari all'esilio. Parole chiave. Campagna, serie di operazioni militari. Plebiscito, consultazione popolare diretta. Impero, entità di territorio e popoli diversi. Concordato, accordo tra due parti. Abdicare, rinunciare al potere sovrano. Esilio, allontanamento dalla patria. Se Napoleone era un tiranno, i sovrani che gli facevano guerra erano molto più tiranni e incapaci di lui. Di fronte a loro egli era un genio, un progressista, un uomo che aveva fatto camminare il mondo in avanti, mentre essi non avevano altra volontà che quella di farlo tornare indietro. Carlo Zaghi. Napoleone Bonaparte. Nato in Corsica, come ufficiale da giovane difese la città di Tolone da un assedio. Come generale possedeva eccezionali doti militari e fascino personale, sapeva comunicare alle truppe e partecipava direttamente alle battaglie. Per questo fu incaricato di due prestigiose campagne, la Campagna d'Italia e la Campagna d'Egitto. Campagna d'Italia. Occupando il Nord Italia con il Trattato di Compoformio, Lombardia e Emilia-Romagna divengono francesi. Il Veneto è acquisito dall'Austria. Nella seconda Campagna d'Italia, conquistato il resto della penisola, vengono organizzate le Repubbliche Sorelle. Campagna d'Egitto. Combattuta per colpire gli interessi economici inglesi in Egitto, bloccando la via delle Indie, è un fallimento. Il colpo di Stato. Nel 1799, ritornato in Francia, Napoleone scioglie il direttorio e istituisce il consolato, diventando primo console. Nel 1802 diviene console a vita. Nel 1804 assume il titolo di Imperatore dei Francesi con un plebiscito. Nel 1805 si dichiara Re d'Italia. Le tappe dell'Impero. Nel 1801 stipula un concordato con il Papa per la pace religiosa. Nel 1805 la flotta viene sconfitta a Gibraltar dall'ammiraglio Nelson, a capo delle navi della coalizione Austria-Prussia-Russia-Inghilterra. Nel 1806 l'esercito francese entra a Napoli, cacciando nuovamente i Borboni in Sicilia. Nel 1808 depone il re di Spagna e divide il vasto imperio in regni, che assegna i fratelli. La fine di Napoleone. Campagna di Russia. Nel 1812 invade la Russia con il massacro delle truppe francesi. Viene sconfitto all'Ipsia dalla coalizione. L'esilio. Nel 1814 deve rinunciare all'impero, sostituito da Luigi XVIII e è mandato in esilio sull'isola d'Elba. La sconfitta. Fugge e raduna un esercito, ma nel 1815 è sconfitto a Waterloo definitivamente. Riportato prigioniero nell'isola di Sant'Elena, muore nel 1821. L'ina del tempo. 1799, al ritorno dalle campagne d'Italia ed Egitto, con un colpo di stato si proclama primo console. 1804, si incorona imperatore dei francesi a Notre-Dame de Paris. 1813, indebolito a Gibraltar e in Russia, la sconfitta all'Ipsia conclude il suo impero. 1815, la sconfitta definitiva a Waterloo è seguita dall'esilio a Sant'Elena. Per approfondimenti potete consultare Focus, Ovo Video, Rai Scuola, Napoleone Bonaparte.